Subito parliamo della lesione della cuffia dei rotatori, dicevamo anche questo può essere qualcosa di sicuramente meno grave, però disabilitante. Vediamo, ce ne parla adesso Elisabetta Migliorelli e cerchiamo di capire quali sono le soluzioni. È un dolore che soprattutto di notte mi impediva di dormire, soprattutto non riuscivo ad alzare il braccio dal letto quando stavo disteso. Dovevo trovare una posizione particolare per potermi addormentare. È il dolore il sintomo principale delle lesioni della cuffia dei rotatori della spalla, una patologia molto frequente. Riguarda soprattutto gli over 65, ma può interessare anche i più giovani in seguito a traumi legati ad esempio all'attività sportiva. I due sintomi sostanziali sono il dolore, che è poi quello che conduce più frequentemente il paziente dal medico, ma anche la limitazione funzionale. Il paziente non riesce a fare determinati gesti, non riesce ad alzare il braccio e questo altera in modo importante la qualità della vita. Io le faccio fare un po' di movimenti. Tutte e due le braccia vada in alto con le braccia così. Ma poi c'è una grossa componente che è costituzionale, che è geneticamente determinata e che le spiega perché a parità di età, a parità di condizioni, c'è una lesione che avviene magari più precocemente rispetto ad altri. L'intervento si fa in artroscopia, in anestesia locale. Dura un'ora mediamente. Si tratta di una vera e propria riparazione meccanica. Consiste nel reinserire il tendine, diciamo, dalla zona di osso da cui si è distaccato e lo facciamo utilizzando dei sistemi di fissazione, che sono delle piccole viti in realtà, che vanno inserite nell'osso, da queste viti escono dei fili e con i fili viene reinserito il tendine e la zona in cui si è distaccato. Deve andare verso l'alto contro di me, forte, con tutte e due, forte, forte, ha un po' meno forza, qua vedi che trema. La vera e propria fisioterapia inizia dopo qualche settimana, ma già nelle prime settimane, quando il paziente porta il tutore, in realtà inizia a fare qualche movimento, che sono quei movimenti che gli servono per la vita quotidiana, di lavarsi, pulirsi, vestirsi. E questo è molto importante perché il paziente soffre l'idea di non potersi muovere per tre settimane, è terrorizzato. Quattro mesi dopo l'intervento, Domenico ha potuto riprendere la sua attività preferita, il golf. I movimenti posso farli tutti già ormai, qualche piccola limitazione nello spostare il braccio nella parte posteriore della schiena, ma insomma, a parte queste cose qui, per il resto non me ne accorgo. Grazie. Grazie. Grazie.